Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook e vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi vi porterò a conoscenza di un caso che ha profondamente sconvolto un'intera comunità lasciando un segno indelebile che perdura anche a distanza di quasi 27 anni. Questa vicenda ha visto due giovani vite spezzate in circostanze terribili e il ricordo di queste vittime continua a essere presente nella memoria collettiva anche a causa dei dettagli agghiaccianti e dall'inadeguatezza del sistema di giustizia penale nel prevenire tali orrori. È la fine del 1997 e ci troviamo a Biga, una città situata nella zona sud-orientale del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Qui abitano due ragazzine, Lauren Berry e Nicole Collins, amiche inseparabili. Nicole Emma Collins nasce il 14 novembre 1980 e trascorre un'infanzia felice. Suo padre, Graham Collins, lavora come veterinario mentre sua madre, Delma, è un'infermiera. All'età di 16 anni Nicole trova un lavoretto part-time come cassiera in un supermercato locale, un'occupazione che però non rispecchia le sue reali aspirazioni. Il suo sogno infatti è diventare chiropratica oppure intraprendere una carriera come interior designer. Nicole è appassionata di equitazione, possiede un cavallo tutto suo e ogni weekend va al maneggio con degli amici. È una ragazza estroversa e fa amicizia facilmente. Una sua amica racconta che Nicole era sempre presente per tirarle su il morale quando ne aveva bisogno, se magari era di cattivo umore o anche solo un po' triste. Quando si era iscritta alla Big High School, Nicole era molto nervosa, dato che non conosceva nessuno. Aveva lasciato la sua precedente scuola perché aveva subito degli episodi di bullismo e temeva di trovarsi nuovamente nella stessa situazione. Fortunatamente il primo giorno di scuola aveva notato una ragazza seduta da sola, Sara. Le si era avvicinata per farle un complimento sulla maglietta che indossava e da quel momento sono diventate grandi amiche. Ecco così che la sua ansia era scomparsa. Sara è molto amica anche di un'altra ragazza di nome Lauren. Lauren Margaret Berry nasce l'11 ottobre 1982, quindi ha un paio di anni in meno rispetto a Nicole. Suo padre, Garrett, lavora per il consiglio comunale, mentre sua madre, Cheryl, fa la casalinga. Lauren ha anche un fratello a 17enne di nome Nathan, a cui è molto legata. Litigano di tanto in tanto, come tutti i fratelli, ma il loro legame è davvero profondo e Nathan è molto protettivo nei confronti della sua sorellina. Anche Lauren frequenta la Big High School e, come sappiamo, è diventata la migliore amica di Nicole Collins. Mentre Nicole è una ragazza molto estroversa e socievole, Lauren, al contrario, è una ragazza un po' timida e riservata. Ama passare del tempo con la sua famiglia, è molto gentile e generosa e adora gli animali. Infatti sogna di diventare veterinaria da grande. Nell'ottobre del 1997, Lauren sta per compiere 15 anni e, per festeggiare, lei e Nicole decidono di organizzare un campeggio per il weekend della Bordei. Progettano di accamparsi in una zona boschiva chiamata White Rock, a Calarù. Dato che la sua casa si trova a sole due miglia di distanza, è il padre di Nicole, Graham, ad allestire il campeggio per le due adolescenti. In questo modo, anche se sono da sole nel bosco, sono vicino a degli adulti pronti a intervenire per qualsiasi problema o necessità. Inoltre, sia i genitori di Nicole che quelli di Lauren prevedono di andare a controllare di tanto in tanto che vada tutto bene. Quindi le ragazzine sono monitorate. Il 3 ottobre 1997, le due amiche trascorrono la giornata nuotando, andando a cavallo e, infine, rilassandosi, chiacchierando davanti al fuoco. Anche Nathan, il fratello maggiore di Lauren, è accampato da quelle parti con alcuni suoi amici. Alla fine della giornata, le due ragazze tornano a casa di Nicole per potersi fare una doccia e cambiarsi vestiti. Due giorni dopo, la sera del 5 ottobre 1997, il gruppo si ritrova seduto attorno al fuoco. Tutti si stanno divertendo, ma Nicole è un po' triste perché lei e il suo ragazzo si sono lasciati di recente. Vorrebbe tornare insieme a lui? Lei è così giovane e sta soffrendo per la sua prima delusione d'amore. Così decide di andare a parlare con il suo ex ragazzo per capire se possono sistemare le cose. Quella notte, il ragazzo sta partecipando a una festa nella città di Yala Yala, che si trova a poco meno di 6 km di distanza dal campeggio. Nonostante la strada da percorrere non sia breve, anzi è una camminata di più di un'ora, Nicole decide di andare a piedi determinata a vederlo per parlargli di persona. Avverte quindi il gruppo di ragazzi che sarebbe andata a questa festa. La sua amica Lauren decide di accompagnarla. Così le due ragazze salutano tutti e iniziano la loro camminata verso Yala Yala. Lasciano il campeggio alle 10 e procedono attraverso il bosco, illuminando il percorso con una torcia. Tuttavia le ragazze non raggiungeranno mai la loro destinazione. Quella notte, dopo aver lasciato il campeggio, scompaiono nel nulla senza lasciare traccia. La mattina seguente il fratello maggiore di Lauren si sveglia e nota immediatamente che né lei né Nicole sono al campeggio. Così torna a casa e chiede ai suoi genitori se loro per caso le avessero viste. Pensa che forse le ragazze potrebbero essere tornate a casa invece che al campeggio. Purtroppo però non riceve buone notizie. I suoi genitori gli dicono di non averle viste e che avrebbero dovuto essere al campeggio con lui. Garrett e Cheryl non si allarmano immediatamente. Provano a chiamare i genitori di Nicole sperando che le ragazze siano andate da loro. Sfortunatamente non sono nemmeno lì. A questo punto i genitori di Nicole e di Lauren chiamano tutti gli amici delle due ragazze. Magari sono andati a casa di qualcuno, qualcuno che conoscevano oppure qualcuno dei loro amici sa dove si trovano. Ma anche in questo caso non hanno fortuna. L'unica cosa che i loro amici possono dire ai genitori delle due ragazze è che avevano lasciato il campeggio per andare a piedi a Yalla Yalla. Sappiamo che non sono mai arrivate a destinazione. Ma dove sono? Cosa gli è accaduto durante quella camminata? Forse si sono perse oppure hanno avuto un incidente e non si possono muovere. Potrebbero essere ferite. Amici e parenti controllano i luoghi di ritrovo e i locali che Nicole e Lauren frequentavano abitualmente. Ma anche in questo caso non c'è traccia delle due adolescenti. Il 6 ottobre, verso mezzogiorno, le famiglie Collins e Barry contattano la polizia e denunciano la scomparsa delle loro figlie. Viene aperta un'indagine e gli investigatori concludono rapidamente che le due adolescenti non sono scappate. Questo perché quando si sono allontanate dal campeggio, quella notte, hanno portato con sé una torcia elettrica e una bottiglietta d'acqua, ma nessun vestito di ricambio. Inoltre hanno lasciato tutta l'attrezzatura da campeggio sul posto. Se avessero deciso di scappare, molto probabilmente l'avrebbero presa. La polizia controlla anche i loro conti correnti bancari, ma non viene rilevata nessuna attività. Le ragazze non avevano effettuato prelievi e, chiaramente, se si fossero allontanate di loro iniziativa, avrebbero avuto bisogno di denaro per pagare i mezzi di trasporto o un alloggio. In aggiunta a ciò, le loro famiglie informano la polizia che Nicole e Lauren non si sarebbero mai e poi mai allontanate senza motivo. Durante il periodo trascorso in campeggio, entrambe si sono sempre tenute in contatto con i propri genitori e, di certo, non è loro intenzione farli preoccupare. Si deduce quindi che deve essere per forza successo qualcosa. Le ricerche delle due adolescenti scomparse vengono avviate rapidamente, concentrandosi principalmente nelle zone intorno al campeggio e lungo la strada che porta Yalla Yalla. Vengono assegnati al caso numerosi agenti che setacciano la zona con l'ausilio di cani da fiuto, mentre gli elicotteri controllano la zona dall'alto. Diversi volontari si fanno avanti per unirsi alle ricerche, questo grazie ai numerosi appelli lanciati al pubblico dalla polizia e al fatto che la notizia si sia diffusa rapidamente in tutti i telegiornali. Di conseguenza, numerosi avvistamenti delle ragazze vengono segnalati all'autorità. Alcuni affermano addirittura di averle viste a Melbourne, altri a Sydney. La polizia controlla attentamente tutte le segnalazioni. Ogni pista, però, si rivela essere un vicolo cieco. Non passa però molto tempo prima che vengano trovati dei vestiti appartenenti a una delle due ragazze. Il pomeriggio del giorno in cui le ragazze vengono denunciate come scomparse, una persona che vive non molto lontano dal campeggio trova una camicia di flanella e un maglione sul lato di Old Walagut Road, una strada che si trova a circa un chilometro dal campeggio. Quest'uomo consegna i vestiti alla polizia, la quale stabilisce chi appartengono a Lauren Berry. La ragazza indossava quei vestiti la notte della sua scomparsa. La polizia, però, stranamente, non li conserva per un esame forense, ma li restituisce ai genitori dell'adolescente. Questo perché le due amiche sono scomparse solo da poche ore e, anche se non è nel loro carattere sparire in quel modo, la polizia non arriva immediatamente alla conclusione che potrebbe trattarsi di un caso di omicidio. Dato che la speranza è quella di trovare le ragazze sane e salve, per il momento non viene ritenuto necessario conservare quei capi di abbigliamento, ma tre o quattro giorni dopo quegli indumenti si rivelano una prova importantissima. Il 9 ottobre i genitori di Lauren e Nicole tengono una conferenza stampa straziante, in cui chiedono al pubblico di riferire qualsiasi informazione possibile. In seguito a ciò, la polizia riceve un suggerimento che ritiene essere importante da una donna che vive nella zona. Dice alla polizia che la notte in cui le due ragazze sono scomparse, lei stava guidando verso la città di Tatra. Afferma che intorno alle 21.50, mentre stava percorrendo una strada sterrata, si è dovuta fermare perché un'altra macchina sostava in mezzo alla carreggiata e non aveva modo di aggirarla. Ha notato che dietro a questa macchina c'erano due ragazze e un uomo che stavano parlando. L'auto, ferma in mezzo alla strada però, viene spostata velocemente, questo vuol dire che c'era qualcuno seduto al posto di guida. La donna aveva quindi rimesso in moto la macchina e aveva superato l'auto che si era appena spostata, senza dare troppo peso alla cosa. Ma dopo essere venuta a conoscenza della sparizione, ora crede che quelle due giovani ragazze potessero essere proprio Nicole e Lauren. Emergono quindi nuovi interrogativi. Chi è quell'uomo con cui stavano parlando? Chi si trovava alla guida dell'auto? Queste persone sono coinvolte nella sparizione delle due ragazze? Sembra un'ipotesi molto probabile, dato che quello, a quanto pare, è il loro ultimo avvistamento. Poco dopo si fa avanti un altro testimone dicendo che la mattina successiva alla scomparsa di Nicole e Lauren ricorda di aver visto un televisore rosa abbandonato sul ciglio della strada, non lontano dal campeggio di Calarù. Quest'uomo aveva raccolto l'apparecchio e lo aveva portato in un centro di accoglienza. Da lì un'altra persona l'aveva preso e portato a casa, l'aveva dipinto di nero e lo aveva venduto a un albergo della zona. Proprio perché l'aveva notato il giorno dopo la scomparsa delle due adolescenti, il cittadino ha ritenuto opportuno avvisare la polizia. Forse si sarebbe rivelato utile per il caso, forse no, ma ad ogni modo aveva deciso che sarebbe stato meglio contattare le autorità. Inizialmente la polizia non fa molto caso a questo suggerimento, solo successivamente inizia a domandarsi quale fosse il motivo per cui quella televisione si trovasse lì. Era stata scaricata su una strada vicino al campeggio, ma perché? La polizia teorizza a questo punto che le ragazze potrebbero essere state rapite. Forse quella televisione apparteneva proprio ai rapitori? È probabile che avessero bisogno di fare spazio nella macchina con cui le avevano portate via. Le ragazze erano state viste chiacchierare con un uomo e se quella segnalazione era corretta, forse quest'uomo e l'individuo che stava guidando l'auto le avevano fatte salire in macchina dopo aver lasciato a terra il televisore e le avevano rapite. Forse questa teoria è un po' inverosimile, ma non del tutto impossibile. I giorni passano, ma non viene trovata alcuna traccia di Loren e Nicole. A circa due settimane dalla denuncia, le squadre avevano esplorato ampiamente le zone boscose attorno al campeggio per giorni, ma non avevano trovato nulla. La polizia è dunque costretta a ridimensionare le ricerche, anche se il caso ovviamente non è chiuso e alcuni investigatori ci stanno ancora lavorando. Non molto tempo dopo, fortunatamente, si registra una svolta nel caso quando un informatore della polizia comunica i nomi di due uomini che si ritiene possano essere utili. Crede che i detective dovrebbero indagare su questi due uomini in relazione alla scomparsa delle due ragazze, poiché entrambi hanno moltissimi precedenti penali. Hanno commesso innumerevoli crimini di diversa natura, alcuni molto violenti. Inoltre questi due uomini avevano letto del caso di Nicole e Loren sul giornale, che avevano fatto un commento che era stato ascoltato dall'informatore della polizia. Avevano detto, oh scommetto che la polizia cercherà di incolparci. Ma perché la polizia avrebbe dovuto incolparli se non ci sono prove che conducano loro? L'informatore ha pensato fosse un commento strano e che forse potrebbero essere davvero coinvolti. I due individui sono Leslie Camilleri, di 28 anni, e Lindsay Beckett, di 32 anni. Lindsay Beckett è nato il 27 marzo 1974 in Nuova Zelanda, ma durante l'adolescenza si era trasferita in Australia. Non ha mai conosciuto il suo padre biologico poiché è stato concepito a seguito di una violenza carnale. Sua madre aveva solo 15 anni quando è stata aggredita. Lindsay ha vissuto in una casa piena di violenza, il che lo ha portato a sviluppare una vena rabbiosa. Ha iniziato a commettere dei crimini già in tenera età, come furti da auto e aggressioni, e spesso diventava molto violento quando si ubriacava nei bar della zona in cui viveva. Successivamente ha iniziato una relazione con una donna di nome Laura Lee, con la quale è stato insieme per diversi anni. Nel giro di tre anni hanno messo al mondo tre bambini e Laura, in seguito, affermerà che l'uomo si era mostrato estremamente violento nei suoi confronti durante tutta la loro relazione, abusando fisicamente di lei, picchiandola frequentemente e aggridendola intimamente in più occasioni. Lindsay, dotato di un cui piuttosto basso, si lascia influenzare facilmente. E, di conseguenza, quando ha incontrato Leslie Camilleri, si è lasciato condizionare moltissimo da lui. Passiamo ora a parlare di Leslie. Leslie è nato il 31 maggio 1969 ed è originario di Liverpool, nel Nuovo Galles del Sud. Anche suo padre non è stato affatto presente durante la sua infanzia e Leslie non l'ha mai incontrato fino all'età di 13 anni. Sin da piccolo Leslie è stato un bambino difficile e indisciplinato, completamente fuori controllo. Spesso perdeva la pazienza e diventava violento, dimostrando di non avere alcun tipo di controllo sui suoi impulsi. Anche lui ha cominciato a commettere furti e atti vandalici molto presto, il che lo ha portato a essere recluso in un centro di detenzione giovanile. Tuttavia ciò non lo ha scoraggiato dal continuare a commettere crimini, tanto che all'età di 28 anni aveva alle spalle ben 146 condanne. Ora, quando ho letto questa informazione per la prima volta, ero sinceramente convinta che la fonte che stavo consultando fosse errata. Doveva esserci un errore. Dopo aver condotto ulteriori ricerche più approfondite, ho scoperto invece che in realtà quel dato non è affatto errato. Leslie ha effettivamente accumulato 146 condanne sulla sua feddina penale, eppure è ancora un uomo libero. Pensate che solo un paio di settimane prima che Nicole e Lawrence comparissero, Leslie aveva dovuto affrontare un processo per sei capi d'accusa di violenza intima contro la sua figliastra undicenne. Tuttavia a causa di un cavillo legale, il processo era stato interrotto e Leslie era stato rilasciato. E io mi chiedo, come si fa a lasciare un soggetto del genere libero di vagare per le strade indisturbato? Non ho informazioni precise su quando Leslie e Lindsay si sono incontrati per la prima volta. So solo che entrambi vivevano nella città di Yass, nel nuovo Galles del Sud, che si trova a circa 300 chilometri da Biga e che si sono conosciuti frequentando gli stessi ambienti criminali. Sono arrivati così a commettere addirittura degli omicidi insieme. Leslie apprezza il fatto di poter perpetrare crimini insieme a Lindsay, perché riesce a controllarlo facilmente, dato che, come vi ho detto poco fa, il ragazzo è molto influenzabile. Leslie spesso chiedeva a Lindsay di compiere delle azioni per lui e lui la consentiva sempre, faceva qualsiasi cosa, forse anche un po' per timore del suo compare. I due avevano già iniziato a delinquere insieme da tempo, quando i loro nomi sono stati associati a Lauren e Nicole. Due settimane prima della loro sparizione, i due uomini avevano rapito una ragazza di 19 anni a Canberra, la capitale dell'Australia. La 19enne era stata aggredita violentemente da entrambi sul sedile posteriore della loro macchina. Fortunatamente la giovane è riuscita a fuggire dopo aver detto ai due criminali di aver la necessità di andare in bagno. Quando l'hanno lasciata scendere dall'auto, ha immediatamente preso a correre più velocemente possibile. Lindsay e Leslie hanno tentato di inseguirla, ma fortunatamente la ragazza si è nascosta abilmente nella boscaglia e loro non sono più riusciti a trovarla. Successivamente ha denunciato l'aggressione alla polizia, ma alla fine ha poi deciso di tirarsi indietro. Ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, ritenendo che il solo pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario e un eventuale processo, dovendo rivivere ciò che le era successo, sarebbe stato troppo traumatico per lei. Non vengono dunque presi provvedimenti, lasciando questi due orribili uomini ancora liberi di camminare per le strade. Fatte queste premesse, possiamo ritornare a concentrarci sul caso di Lauren e Nicole. Come ho detto precedentemente, Lindsay e Leslie sono finiti nel mirino dei detective. Dopo aver appreso la loro storia criminale, gli investigatori sospettano che potrebbero essere proprio loro i responsabili della sparizione delle ragazze. Potrebbero averle rapite. Il loro principale obiettivo ora è rintracciarli e interrogarli. Lindsay viene individuato facilmente perché è stato arrestato a Canberra per il furto di un'auto, dopo essere stato inseguito dalla polizia mentre era alla guida del veicolo rubato. Il 5 novembre 1997, i detective incaricati del caso delle due ragazze scomparse si recano direttamente a Canberra per interrogare Lindsay. È passato un mese da quando si sono perse le tracce di Nicole e Lauren. Durante l'interrogatorio l'uomo appare molto calmo e rilassato, apparentemente indifferente alle domande dei poliziotti, che ravvisano un certo grado di arroganza nei suoi modi e nelle sue risposte. Non fornisce nessun tipo di informazione sulle due adolescenti e afferma di non essere coinvolto nella loro sparizione. Verso la fine dell'interrogatorio, però, iniziano a porgli delle domande riguardanti il televisore rosa. Se ricordate, la polizia aveva elaborato una teoria secondo la quale il televisore abbandonato sul ciglio della strada, non lontano dal campeggio, sarebbe potuto appartenere agli uomini coinvolti nel possibile rapimento delle due adolescenti. Forse si era presentata la necessità di scaricarlo dall'automobile per fare posto alle ragazze sul sedile posteriore. Chiedono a Lindsay se per caso avesse mai avuto una tv rosa nel suo veicolo. Appena finiscono di formulare la domanda, i detective notano un leggero cambiamento nell'atteggiamento di Lindsay. Non dice nulla a riguardo, ma il suo corpo sembra rispondere inconsapevolmente. Se prima era molto rilassato e distaccato, quando i detective menzionano la televisione rosa, ha come uno scatto e si raddrizza sulla sedia, come se la domanda lo avesse spaventato. Sembra pensare, cavolo, e ora cosa dovrei dire? Dopo un'attenta revisione della teoria riguardante la televisione, la polizia scopre tramite l'informatore che in effetti Leslie Camilleri e Lindsay Beckett avevano davvero ottenuto di recente una televisione come parte di un pagamento per un affare relativo a delle sostanze. La polizia cerca di approfondire la questione e riesce a determinare che la tv che era in possesso degli uomini proveniva da un negozio di articoli di seconda mano. I poliziotti quindi si recano nel negozio e il proprietario conferma che quella che avevano era effettivamente di colore rosa, identica a quella abbandonata a lato della strada. Questa è una scoperta importantissima per la polizia. Significa che Lindsay e Leslie erano molto vicini al luogo da cui Nicole e Lauren sono scomparse. Per la polizia questa informazione è sufficiente per prendere in considerazione seriamente Camilleri e Beckett come principali sospettati del caso. La polizia a questo punto va anche a parlare con Leslie, fortunatamente riescono a rintracciarlo rapidamente dato che anche lui è stato arrestato ed è in custodia per aver violato i termini della libertà condizionale per un altro crimine che aveva commesso. Esattamente come Lindsay non parla molto né ammette nulla riguardo la scomparsa di Lauren e Nicole. La polizia gli chiede dove fosse la notte del 5 ottobre e Leslie racconta una storia che lo colloca lontano dal campeggio. Tuttavia il suo atteggiamento subisce un repentino cambiamento quando la polizia inizia a porgli delle domande sulla televisione rosa. Esattamente come Lindsay appena i detective la nominano si trincerà in un ostinato silenzio. Dichiara poi di non voler più parlare con la polizia il che per i detective si rivela molto significativo. A maggior riprova di ciò più tardi gli viene riferito che a seguito dell'interrogatorio quando è tornato nella sua cella in prigione ha iniziato a singhiozzare e a sbattere la testa contro il muro ripetendo «Sanno della televisione! Sanno della televisione!» Era davvero molto angosciato tanto che è stato necessario sedarlo per calmarlo perché era in preda a un vero e proprio attacco di panico. Nonostante il crollo nervoso di Leslie gli investigatori sono convinti che la persona più propensa a confessare probabilmente è Lindsay a causa del suo basso qui e della sua tendenza a lasciarsi influenzare dagli altri. Di conseguenza decidono di interrogarlo nuovamente il 12 novembre. Gli investigatori portano con sé due foto in formato A4 di Lauren e di Nicole e gliene mostrano entrambe così che possano vedere bene i loro volti. Appena Lindsay vede le foto le gira immediatamente. È evidente che non vuole guardarle perché lo mettono a disagio. I detective a questo punto gli comunicano di avere delle prove che collocano lui e Leslie nella zona in cui le due ragazze sono scomparse e che questa è la sua opportunità per dire la verità. Aggiungono che più tardi daranno a Leslie la stessa opportunità e che confessare sarà nell'interesse di entrambi quando affronteranno il processo. In pratica gli dicono che questa è la sua occasione per migliorare la sua condizione. In seguito a questa conversazione Lindsay esce con le guardie per fumare una sigaretta. È in quel momento che inizia a piangere e a dire ci hanno preso. Sa che a questo punto non ha alcun senso cercare di negare il suo coinvolgimento. Dopo essere rientrato Lindsay si avvicina agli investigatori e chiede se hanno una mappa a disposizione. L'avrebbe utilizzata per mostrare alla polizia dove trovare i corpi senza vita di Nicole e Lauren. Appena gli viene consegnata Lindsay segue con il dito il percorso dell'autostrada di Monarue e si ferma su una zona chiamata Fiddler's Green Cree. Appena a sud del confine tra Victoria e il nuovo Galles del Sud affermando che è lì che troveranno le ragazze. Il detective chiede all'uomo cosa fosse successo e chi le avesse uccise e Lindsay ammette di averle uccise entrambe lui. L'uomo spiega che nella notte in cui le ragazze erano scomparse, il 5 ottobre 1997, lui e Leslie erano in giro con la loro macchina, una Ford sedan bianca. Bevevano birra e si erano iniettati delle sostanze. Si stavano dirigendo verso Tatra perché avevano intenzione di andare in spiaggia quando hanno notato due ragazze che stavano camminando sul ciglio della strada. Erano Nicole Collins e Lauren Berry che avevano lasciato da poco il campeggio per andare a cercare il fidanzato di Nicole. Appena le hanno viste, Leslie che stava guidando l'automobile ha accostato e ha offerto loro un passaggio. Ha detto che lui e il suo amico Lindsay stavano andando verso la spiaggia per vedere se c'era una festa. Gli ha chiesto alle ragazze se volessero andare con loro. Lauren e Nicole hanno accettato di andare con loro in spiaggia e si ritiene che sia questa la conversazione che la testimone ha visto quando ha notato la macchina ferma in mezzo alla strada con un uomo che parlava con due ragazze giovani. Le ragazze sono quindi salite in macchina con i due uomini ed è in quel momento che si sono sbarazzati della televisione rosa lasciandola sul ciglio della strada. A quanto dice Lindsay le due ragazze sono salite sul veicolo di loro spontanea volontà. Anche se, come probabilmente immaginerete, molti non credono a questa versione, specialmente le famiglie delle due ragazze. Non sarebbero mai e poi mai salite in macchina insieme a due uomini più grandi? Soprattutto se sconosciuti, sembra più probabile che siano state costrette a farlo. Lindsay spiega che poi Leslie si era diretto alla spiaggia di Tatra, dove hanno parcheggiato e per un po' i due uomini avevano continuato a bere e a chiacchierare con le ragazze. Quando è arrivato il momento di andarsene, le ragazze hanno chiesto se potevano essere riaccompagnate al campeggio. I due uomini hanno consentito, ma come sappiamo non avevano alcuna intenzione di farlo veramente. Leslie aveva quindi iniziato a guidare verso Callaru, ma secondo il racconto di Lindsay, a un certo punto, durante il tragitto avevano preso un dosso ad alta velocità, il che aveva fatto arrabbiare Leslie perché era convinto che la macchina si fosse danneggiata. Leslie aveva perso la testa e aveva incolpato le due ragazze. Se non le avesse dovute riaccompagnare al campeggio, non sarebbe passato su quella strada. A quel punto, Leslie aveva estratto un coltello e aveva iniziato a minacciarle. E Lindsay, seguendo il suo esempio, aveva fatto lo stesso. Lauren e Nicole erano terrorizzate, consapevoli di non avere una via di fuga. Erano sedute sul sedile posteriore di un veicolo in movimento, con entrambe le portiere chiuse, impossibili da aprire all'interno, dato che avevano il blocco per i bambini inserito. Le due adolescenti erano in trappola, non potevano provare a scappare o a saltare fuori dall'auto. Leslie aveva fatto un'inversione a U dirigendosi nella direzione opposta e allontanandosi dal campeggio. Nel frattempo, i due uomini continuavano a minacciare le ragazze, dicendo loro che le avrebbero uccise con il coltello se non fossero state zitte o se avessero provato a scappare. Leslie stava continuando a guidare lungo l'autostrada, fino a Old Wallagut Road, il luogo dove erano stati trovati i capi di abbigliamento di Lauren. Una volta lì, le ragazze erano costrette a scendere dall'automobile ed erano state aggredite intimamente. Leslie aveva assalito Nicole mentre Lindsay aveva aggredito Lauren. Poi si erano scambiati le vittime. Dopo l'aggressione, avevano costretto le ragazze a tornare in macchina. Leslie aveva ripreso a guidare ed entrambi continuavano ad assumere sostanze. Le ragazze sono state portate in diversi luoghi quella notte e ogni tanto i due uomini si fermavano per aggredirle nuovamente. Erano andati avanti così per nove ore. Lindsay afferma che quando si stava dirigendo verso sud, avvicinandosi al confine con Victoria, mentre stava guidando lui, Leslie si era addormentato e a suo risveglio si era arrabbiato per il luogo in cui aveva portato lui e le ragazze. Leslie voleva andare altrove, verso Sydney. A quel punto aveva ordinato a Lindsay di accostare la macchina perché voleva di nuovo approfittare del corpo della ragazza con i capelli scuri, ovvero Lauren. Si erano fermati lungo una strada sterrata e tranquilla. Lui aveva aggredito loro indietro ad alcuni cespugli, mentre Lindsay era rimasto in macchina con Nicole. Lindsay spiega che quando i due erano tornati, Leslie aveva preso a dirgli ripetutamente «Non possiamo riportarle indietro ora». In pratica, Leslie, dicendo che non potevano riportarle indietro, intendeva che, se le avessero lasciate libere, sarebbero sicuramente andate dalla polizia per denunciarli e che quindi dovevano ucciderle. Ormai si era quasi fatta mattina, si stavano dirigendo verso nord e tra le 7 e le 8 erano arrivati a Fiddler's Green Creek, dove i due uomini avevano deciso di ucciderle. Avevano costretto le due ragazze a scendere dall'auto sotto la minaccia dei coltelli e le avevano condotte verso la boscaglia, verso un fiume. Una volta raggiunto il corso d'acqua, Leslie aveva ordinato alle ragazze di togliersi i vestiti. Gli aveva ordinato di immergersi per lavare i loro corpi, così da eliminare le prove delle numerose violenze intime subite. Avevano poi obbligato entrambi a rivestirsi e alla fine li avevano legato polsi e braccia. Lauren era stata costretta a sdraiarsi a faccia in giù, a terra, mentre Nicole era stata legata a un albero lì vicino. Lindsay afferma che, quando entrambe le ragazze erano state legate e non potevano muoversi, Leslie lo aveva preso da parte dicendogli che doveva essere lui a ucciderle entrambe. All'inizio Lindsay era titubante e aveva detto a Leslie che non era giusto che dovesse ucciderle entrambe lui. Tuttavia sappiamo bene che Leslie era il capo, diciamo. Lui impartiva gli odeni e Lindsay li eseguiva. Leslie era tornato in macchina per attendere che venisse compiuto il crimine, mentre Lindsay si stava avvicinando a Lauren con l'intenzione di ucciderla per prima. Leslie gli aveva detto di annegare Lauren nel fiume, così l'aveva sollevata da terra e trasportata fino al torrente per tenerla sott'acqua. Lauren però si era ribellata e nonostante fosse legata, stava facendo tutto il possibile per respingerlo. Lottava per respirare. In questo modo aveva bagnato Lindsay, il quale, essendosi arrabbiato, aveva sollevato il coltello e l'aveva pugnalata al collo mentre continuava a tenerla immersa sott'acqua, fino a che non si era immobilizzata. Lauren, così, aveva perso la vita. Poi si era diretto verso Nicole, che era legata all'albero e probabilmente aveva capito cosa le stava per succedere. La ragazza, dalla sua posizione, non era riuscita a vedere cosa l'uomo avesse fatto alla sua amica Lauren, ma aveva sentito tutto. Non riesco neanche a immaginare il terrore che ha provato questa ragazzina, ormai consapevole di essere la prossima. Lindsay confessa alla polizia che, quando si era avvicinato a Nicole, lei gli aveva chiesto «Ne ucciderai, vero?». Lui gli aveva detto di chiudere la bocca, le si era avvicinato da dietro e aveva pugnalato anche lei al collo. Questa ferita, però, non l'aveva uccise immediatamente, quindi anche lei, come Lauren, si stava dimenando, così lui l'aveva slegata e pugnalata di nuovo, questa volta al centro della gola. Aveva poi estratto il coltello dalla ferita per continuare a pugnalare Nicole al petto, dove credeva fosse il cuore. A questo punto la ragazza era caduta a terra, ma era ancora viva, a quanto pare. Continuava a muoversi, sembrava stesse cercando di urlare e fare rumore, ma non riusciva a causa delle ferite da taglio al collo. Lindsay aveva iniziato a prenderla a calci in testa, l'aveva colpita un paio di volte, poi si era fermato ed era rimasto a guardare finché non aveva smesso di muoversi. Anche Nicole aveva perso la vita. Dopo aver ucciso entrambe le ragazze, Lindsay era tornato alla macchina dove Leslie lo stava aspettando e, dopo essere salito, Leslie gli aveva detto «Hai visto il demone?» Successivamente i due uomini si erano allontanati dalla scena del crimine per raggiungere la città di Yas, dove vivevano. Prima però si erano fermati a Canberra per bruciare gli abiti macchiati di sangue di Lindsay e le corde che erano state usate per legare le due ragazze. Dopo essersi liberati di quelle prove bruciandole, avevano fatto sparire anche i coltelli gettandoli da un ponte nel lago Burleigh Griffin. Solo allora erano tornati a casa. Erano tornati alle loro vite come se non fosse accaduto nulla, come se non avessero ucciso brutalmente due ragazzini adolescenti. In seguito avevano anche tentato di pulire la macchina, così a fondo da eliminare qualsiasi traccia della presenza delle ragazze. Qualche giorno dopo erano addirittura tornati vicino alla zona del campeggio per cercare la tv rosa che avevano scaricato sul ciglio della strada, temendo che potesse incriminarli. Tuttavia non l'hanno mai ritrovata perché era stata raccolta da un abitante del posto e portata nel centro di accoglienza. Lindsay, dopo aver confessato, porta gli agenti a Fiddler's Green Creek e indica loro dove trovare i corpi delle due adolescenti. Dopo circa cinque settimane di ricerche, i loro corpi, che avevano iniziato a decomporsi, vengono ritrovati. Le famiglie delle vittime vengono informate dell'orrore a cui sono state sottoposte queste povere ragazzine durante la loro ultima notte in vita. La notizia del ritrovamento dei corpi si diffonde rapidamente e come potete immaginare, l'impatto sulla comunità è stato devastante. Non solo la cittadina di Biga, ma l'integra nazione sotto shock e in lutto. Il 19 novembre 1997 si tiene una cerimonia commemorativa nel Littleton Gardens Park a Biga e migliaia di persone partecipano per piangere e mostrare sostegno alle famiglie che hanno subito le conseguenze di questo crimine così brutale. Questa terribile vicenda ha scosso la nazione e ha lasciato tutti in uno stato di angoscia e incredulità. Leslie Camilleri e Lindsay Beckett vengono arrestati e accusati di molteplici capi di imputazione, violenza intima, rapimento e omicidio di primo grado. Lindsay aveva già fornito una confessione e quindi quando si tiene il suo processo, nel giugno del 1998, si dichiara colpevole e viene condannato a due ergastoli con un minimo di 35 anni. Leslie invece si dichiara non colpevole delle accuse e attribuisce tutta la responsabilità a Lindsay. Leslie spiega che la notte in questione era con Lindsay e conferma che hanno fatto salire le ragazze sulla loro automobile e sono andate in spiaggia con loro, ma cerca di sostenere che successivamente lui aveva dormito nel veicolo praticamente per tutto il tempo a causa dell'alcol ingerito e delle sostanze che aveva assunto. Di conseguenza afferma che non aveva idea di cosa Lindsay stesse facendo nel frattempo alle due vittime. Nega anche di aver avuto alcun ruolo nelle violenze intime. Ovviamente, fortunatamente, nessuno crede alla sua versione dei fatti. Il suo processo inizia nel febbraio del 1999 e fortunatamente l'accusa è in possesso di prove valide per dimostrare che sta mentendo e che è coinvolto in quanto accaduto alle due adolescenti. Innanzitutto, il maglione e la camicia di flanella di Loren erano stati inviati al laboratorio per fare dei test e su di essi viene trovata una traccia di seme che risulta corrispondere al DNA prelevato da Leslie Camilleri. Lui aveva affermato di non aver fatto nulla alle ragazze, ma questo risultato dimostra che ha mentito. In aggiunta a ciò viene presentata una testimone molto importante. Vi sto parlando della ragazza dei 19 anni che era stata rapita e aggredita intimamente sia da Leslie che da Lindsay. Appena un paio di settimane prima che le due adolescenti venissero uccise, quella che era riuscita a scappare. La polizia è riuscita a rintracciarla e lei ha accettato di testimoniare e di parlare del suo orribile calvario, di come sia stata minacciata con un coltello e aggredita brutalmente dai due uomini. Il principale testimone per l'accusa però è proprio Lindsay Beckett, che testimonia contro Leslie Camilleri durante il processo. Ha stipulato un accordo per ottenere una condanna più lieve in cambio della sua testimonianza contro Leslie. Lindsay riferisce alla corte tutto ciò che Leslie aveva fatto quella notte, pur ammettendo che era stato lui ad uccidere le ragazze, ma solo perché Leslie glielo aveva ordinato. Ho menzionato più volte durante questo video il fatto che Lindsay veniva manipolato da Leslie, quindi la sua versione è credibile. Leslie durante il processo si comporta in modo vile, sbadiglia molto, come se non gli importasse nulla. La sua insensibilità è evidente, ma fortunatamente la giuria nota il suo atteggiamento e di certo non sembra quello di un uomo addolorato o pentito. Nell'aprile del 1999 viene dichiarato colpevole degli omicidi della sedicenne Nicole Collins e della quattordicenne Lauren Berry. Viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, quindi grazie al cielo non verrà mai più rilasciato e trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre. Il giudice, pronunciando la sua sentenza, gli dice Hai usato il controllo che chiaramente avevi sul tuo compagno più debole, ma altrettanto malvagio. Lo hai incaricato di compiere atti che in un modo un po' perverso possiamo dire che probabilmente non hai avuto il coraggio di compiere da solo. È terribile contemplare la prospettiva che, come conseguenza dell'ordine che a mio avviso la giustizia e un adeguato apprezzamento dei principi della condanna richiederebbe il tuo caso, potresti non essere mai rilasciato dal carcere. Tuttavia ritengo che il mio dovere sia chiaro. Attraverso le tue stesse azioni hai perso il diritto di camminare di nuovo tra noi. Nonostante due appelli alla sentenza, Leslie Camilleri non ha mai ottenuto una riduzione della pena. L'intera comunità si è profondamente indignata dopo essere venuta a conoscenza dei numerosi precedenti penali di questi due assassini prima di commettere questo orribile crimine. Come accennato in precedenza, Leslie e Lindsay avevano numerose condanne penali alle spalle e si trovavano entrambi in libertà su cauzione al momento della morte di Lauren e Nicole. È comprensibile che la gente provasse rabbia e sentisse che il sistema di giustizia penale aveva fallito nei confronti di queste due ragazze. Come è possibile che persone come Lindsay e Leslie fossero libere di girare per le strade dopo tutti i crimini che avevano commesso? Questi due uomini non hanno avuto solo una possibilità ma molteplici. Nel 2013, 16 anni dopo gli omicidi, Leslie Camilleri finisce di nuovo in tribunale quando la polizia lo collega alla scomparsa di Prudence Bird, una ragazzina di 13 anni di Melbourne scomparsa nel 1992, 5 anni prima degli omicidi di Lauren e Nicole. Si ritiene che le circostanze che hanno portato al suo omicidio siano collegate all'attentato di Russell Street al quartier generale della polizia di Melbourne nel 1986. Quell'esplosione aveva causato la morte di Angela Rose Taylor, la prima poliziotta australiana ad essere uccise in servizio. Dovete sapere che Prudence Bird era la nipote dell'informatore della polizia che aveva fornito informazioni sulla banda responsabile dell'attentato a Russell Street. Si ipotizza quindi che la 13 anni sia stata rapita e uccisa un paio di anni dopo come atto di vendetta e che presumibilmente Leslie Camilleri fosse stato assunto come sicario. Sorprendentemente Leslie Camilleri confessa di aver ucciso Prudence Bird dichiarandosi colpevole del suo omicidio durante il procedimento giudiziario. Afferma di averla uccisa perché lei si rifiutava di dirgli dove si trovasse il padre e che, dopo averla strangolata a morte, aveva portato il suo cadavere in una discarica nella città di Frankston, sempre in Australia. Tuttavia, almeno fino a oggi, il corpo della ragazzina non è mai stato trovato. Leslie dichiara anche che il padre di questa ragazzina aveva abbrato intimamente di lui da bambino, fatto che però non verrà mai dimostrato. Leslie Camilleri riceve un'ulteriore condanna ad altri 28 anni di prigione. Attualmente sia Lindsay che Leslie sono ancora dietro le sbarre. Le due ragazze quella notte hanno provato un terrore inimmaginabile e le loro famiglie sono state a dir poco devastate quando sono venuti a conoscenza di come sono state uccise le loro adorabili figlie. Lindsay e Leslie rappresentavano chiaramente una minaccia. Come è possibile che fossero liberi di vagare per le strade? Vi ricordo inoltre, nuovamente, che Leslie aveva 146 condanne sulla fedina penale. Ritengo che questo sia un enorme fallimento da parte del sistema giudiziario. Spero che Lauren e Nicole riposino in pace e che le loro famiglie trovino anche solo un briciolo di conforto sapendo che questi due esseri mostruosi non potranno mai più fare del male ad altre ragazzine indifese. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Questo caso è davvero atroce, è terribile, nove ore sono lunghissime e queste ragazzine hanno davvero subito un inferno sul serio, un qualcosa di infernale, di orribile. Questo caso non lo conoscevo e voi conoscevate questo caso prima di oggi? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Sono curiosa di sapere quali sono le vostre emozioni, cosa vi ha fatto provare questo caso. Insomma, sentitevi liberi di condividere con me quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!